La prima edizione del TG Veneto News, buongiorno a tutti e buon primo maggio. Un primo maggio di lutto dopo la morte del pensionato travigiano di 68 anni colpito dalla gru che stava manovrando l'incidente in provincia di Pordenone a Fiume Veneto. È la terza vittima sul lavoro in un mese. Sono le parole, il monito del capo dello Stato, è inaccettabile. E poi oggi la manifestazione anche nazionale a Monfaicone nel cuore del nord-est in 2000 dal Veneto. Ma partiamo con la cronaca e andiamo per questo dramma in collegamento da Gabriella Basso che è a Fontanelle. Sì, è un primo maggio bagnato dal sangue di Ivo Bellotto, 68 anni, residente a Fontanelle in provincia di Treviso. È l'ennesimo morto sul lavoro proprio alla vigilia di questa giornata. È morto ieri appunto mentre stava scaricando del materiale, le forche del braccio che stava controllando, la gru che stava controllando. L'hanno colpito cadendo per terra, sbalzando la terra da una altezza notevole e questo gli ha provocato il decesso sul colpo. Qui, in via Roma a Fontanelle, dove Ivo Bellotto abitava, si sono chiusi nel silenzio. Una tragedia che ha colpito la famiglia, è uscito il figlio ma ha detto non voglio parlare, è troppo il dolore. E anche i familiari, gli amici che stanno arrivando preferiscono non commentare quanto è accaduto. Una tragedia, dicevamo appunto, che sconvolge l'intera comunità ma non è purtroppo la prima di questo 2024. Già il 5 aprile è morto cadendo dal lucernaio del Teatro Momo a maestre Mattia Dittadi, di 45 anni, di Oriago. E poi la tragedia il 9 aprile della diga di Suviana, dove ha perso la vita Adriano Scandellari, ingegnere nel Power. Una tragedia anche quella che, vi ricordate, ha veramente sconvolto l'intera comunità. Tre vittime dal 2024 in Veneto e un elenco che si allunga sempre di più che tutti i sindacati e le autorità chiedono che venga fermato in qualche modo. Qui intanto a Fontanelle, in provincia di Treviso, si piange Ivo Bellotto. E da Fontanelle è tutto. La linea torna allo studio.